una giornata e buon viaggio da muoversi in Toscana ancora in studio Mauro Ciutini attenzione allerta meteo da gialla che è diventata arancione in Toscana si è alzato il livello di criticità per rischio vento e temporali forti e sulla 1 ci sono ancora code dopo un veicolo in avaria tra Calenzano e il Bivio A1 variante in direzione di Bologna code anche sulla 11 la Firenze Pisa Nord tra Prato Ovest e Prato Est il traffico è intenso in direzione di Firenze e attenzione sulla 12 la Genova Rosignano anche qui temporali di forte intensità tra Pisa e l'allacciamento con l'Aurelia e proprio sull'Aurelia una corsia è chiusa per oggetti in strada all'incrocio di Capalbio in direzione nord e per quanto riguarda questo aggiornamento è tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, guidate con prudenza a più tardi Grazie 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 Grazie